Tempo di bilanci in casa Gela, la società ha deciso oggi di indire una conferenza stampa sia per il classico scambio di auguri natalizi ma anche per presentare nuovi arrivi. In realtà c'era soltanto il portiere Galesi, classe 2005 o i geni di scemi che arriva dall'Icata. Sarà l'alternativa ad Armando Di Martino. Non c'era mai un tessato del Gela, Totò, tre piedi, centrocampista. Tutto qui il mercato di riparazione. Tre nuovi arrivi, compreso Signatè, sette cessioni o sette addi se volete. Un mercato deludente che i tifosi hanno aspramente criticato e noi stessi non siamo stati abbastanza generosi con la società ricordando anche il passato, quello che è accaduto ad esempio con la SSD lo scorso anno in promozione ma anche con il GELFC. La dirigenza con Marco Scerra, Maurizio Meffa, Luigi Alabiso e Francesco Salsetta ha invece spiegato le ragioni per cui la società ha deciso di fare questa scelta. Problemi di budget, problemi quindi di soldi, di denaro, di investimenti, di uno stadio che ovviamente è fatiscente e anche di un percorso che deve essere graduale. Ovviamente tutte giustificazioni che convincono fino a un certo punto perché sanno tutti che il direttore sportivo Bonafini aveva ricevuto il via libera per quattro rinforzi di peso. Uno era a treppiedi, l'altro a Galesi, gli altri due erano strano e poi anche l'attaccante Charlie Fama dalla Leonze che invece sono andati a Modica. Qualcosa quindi non ha funzionato. C'è stato quindi una retromarcia, una scelta di fare un passo indietro e la dirigenza ha spiegato che è un problema soprattutto di natura economica e si è convinti che con l'attuale rosa di questa squadra si potrà mantenere la zona playoff. Adesso il compito spetta a Mirko Fauciane, al direttore sportivo Alessandro Bonafini. Di certo l'ambiente non è sereno, c'è un entusiasmo che è scemato e che ci aspettava di più da questo cosiddetto mercato di riparazione, cosa che invece non è avvenuta. Da qui la delusione dell'ambiente, anche se la società invita tutti a stare vicino alla squadra anche nel girone di ritorno.